grazie di essere qui qui, 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 qui come oggi oggi voglio fare un video un pochino diverso dal solito stile più o meno motivazionale non li faccio spesso, lo sapete, non è solo il mio stile ma oggi è domenica, domenica qualcosa del 29 29 marzo e su instagram trovate come chiara.smr ho fatto un pochino domande a volte domenica al marzo e mi sono arrivate tante tante ma tantissime domande ovunque frasi su cui devo un'opinione tipo ho paura cioè vorrei, che ne so, condividere questa mia passione sui social ma ho paura che le persone nella mia vita, cioè nella vita reale mi riconoscano oppure ho paura di fare questa cosa per come mi giudicheranno gli altri c'erano veramente tante 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 ma proprio tantissime oppure altre come i fatti cioè hai mai avuto paura del giudizio degli altri quando hai cominciato a fare video smr e ti ha mai fermato hai mai smesso per la paura di quello che pensassero gli altri di fare video smr e sentivo che fare solo delle storie su questo argomento non mi bastava e quindi ho detto non era presto questo video assolutamente molto improvvisato però molto ispirato e quindi ho detto perché non parlano in un video perché per me questi video hanno uno scopo più in là per rilassare hanno uno scopo di farvi stare bene di farti stare bene quindi se questo video può farti stare bene può liberarti da certi limiti che ti poni ben venga ditemi cosa ne pensate nei commenti ditemi davvero fatevi sentire soprattutto su un argomento del genere voglio sapere la vostra voglio sapere le vostre esperienze le vostre paure il modo in cui le avete superate se le avete superate allora partiamo dal concetto partiamo dal presupposto che da quando vanno in terapia sto molto molto meglio in generale si impara ad accettare molto di più se stessi non ho mai personalmente avuto un problema di paura del giudizio degli altri sono sempre stata critica invece verso me stessa e questo non c'entra con il video non è un problema che c'entra con il video però è per lasciarvi un messaggio che se avete questa paura enorme insuperabile che vi blocca la vita che blocca i vostri sogni paura del giudizio degli altri c'è qualche c'è proprio quella fortissima c'è qualche spiegazione dietro e non vi posso consigliare di andare dallo psicologo o addirittura di andare dallo psicoterapeuta per me è stato un grandissimo regalo a me stessa quindi lo dico per stocanare questa cosa è normale ed è bellissimo e aiuta tantissimo detto questo sarò per appunto parlarne perché non se ne parlo ne abbastanza parlo soprattutto delle persone che hanno anche paura del giudizio delle persone se scoprono che vai dal terapeuta o se scoprono che vai dallo psicologo ecco ma a me non me ne aveva fregato niente ne parlo anche con gli sconosciuti quando erano in terapia ed è la cosa migliore che abbia fatto per me stessa quindi cioè se loro pensano boh ma poi cosa volete che pensi la gente? cominciamo con il discorso perché ok allora unica cosa vi piace questo sfondo? ho definito gli stessi però ho preso questa luce della stella e questa luce ci riesco a questa luce non posso fare questa luce della luna e questa della stella e mi piace molto e ispirate a Feli ASMR che ha fatto uno sfondo bellissimo con tutte queste luci comunque partiamo dalla mia esperienza perché secondo me è giusto partire così con il discorso soprattutto col canale ASMR io non mi mostravo il viso quindi in realtà un minimo di paura del giudizio degli altri ovviamente ce l'avevo anch'io è normalissimo è umano dopo un anno ho cominciato a mostrare il viso e sicuramente era era imbarazzata quando le persone che conoscevano ma che conoscevano magari anche i compagni di diversità o sono persone che conoscevano i varianti della mia vita dicono oddio ho scoperto che è in canale perché comunque l'SMR era ancora considerato una cosa un po' tipo strana ma anche mezza insomma e quindi sì un po' mi vergognavo ma questa paura del giudizio degli altri non mi ha mai comunque fermato nel fare i video ASMR penso che il completo stranamento dal giudizio degli altri sia un qualcosa abbastanza difficile da raggiungere ed è normale averne un po' e e ci sta sulle nostre paure la nostra società la nostra società che ci dice che andiamo bene solo se siamo cioè eseguiamo esattamente il binario della conformità appena ci spostiamo leggermente abbiamo noi paura a spostarci a quel binario a prendere una via diversa e la cosa che chi ve l'ha detto è quello che non è la vostra strada giusta chi ve l'ha detto è quello che volete fare sbagliato senamente volete condividere la vostra passione sui social? ma perché no? cioè che male c'è? volete volete che ne so mollare la vostra vita o trasferire dall'altra parte del mondo ma avete paura del giudizio degli altri ma chi se ne frega quelle persone non le vedrete neanche più il peggio è quando forse non so se sia peggio non fare cose per il giudizio degli altri o fare cose per paura del giudizio degli altri se non la fate tipo avere figli che me ne scambi da chi non vuole averli e li ha perché sennò non va bene e è un buon discorso così ve l'ho detto che era che era improvvisato però quello che voglio dire è la cosa che secondo me bisogna capire e molto importante in generale in tantissime situazioni è autonalizzarsi non potremmo mai sapere cosa pensano gli altri di noi però pensiamo noi stessi non lo so io personalmente posso pensare che una persona è strana posso pensare che una persona non lo so mi può palenare nella testa un pensiero negativo comunque di giudizio su un'altra persona nel momento quando lo faccio mi dico ok perché perché vorrei diventare una persona che non giudica perché non ne ho indirizzo perché non mi da a me non da nulla agli altri da solo negatività è un circolo vizioso quindi no quindi per prima cosa mi autocritica e mi chiedo perché sto giudicando quella cosa perché sto facendo questo pensiero ma a parte questo la seconda cosa è quanto mi dura questo giudizio un mezzo secondo che ne so per come avessi una persona quanto mi dura davvero quanto mi dura ma un minuto cioè se proprio ci sto tanto un minuto non lo so quanto mi può durare un giudizio alle persone e poi ognuno li tolano la propria vita perché ricordatevi che a noi prega cioè siamo obiettivamente gli esseri umani sono ecocentrici a noi prega prevalentemente solo nella nostra vita quindi siamo più preoccupati a siamo più impegnati a preoccuparci per ciò che pensano gli altri che preoccuparci di pensare degli altri di base e contando questa cosa cioè se voi siete impegnati a non paranoiarvi per giudicare gli altri per il giudizio degli altri anche gli altri saranno impegnati a fare la vostra stessa cosa identica e si arriveranno delle critiche perché arriveranno magari per qualcosa delle prese in gira eccetera di base probabilmente c'è un minimo di invidia che voi siete riusciti a fare qualcosa che loro si vergognerebbero a fare che magari li renderebbe felici quindi seriamente secondo me non riuscire ad esprimersi in qualunque ambito in qualunque sia come azione sia come persona come carattere per paura di ciò che persano gli altri è uno degli sprechi più grandi che possiamo fare è una delle perdite di tempo più grandi veramente e non fatelo non fatelo non fatelo io so che anche nel contesto familiare ci possono essere molti giudizi lo so lo sento e lo vedo anche in prima persona giudizi sul tuo corpo sui tuoi capelli sul tuo lavoro ciò che fai sulle tue scelte sulla scelta di sposarsi non sposarsi avere dei figli essere troppo giovani meno giovani sul lavoro sia appunto il lavoro che scegli l'incertezza del tuo lavoro cosa dovresti fare che lavoro dovresti fare cosa dovresti studiare che passo dovresti fare dopo dove dovresti vivere non è la loro vita è la vostra non non fatevi non permettete alla gente di dirvi cosa dovreste fare quando dovreste fare come vi dovreste vestire non permettete alle persone esterne di farvi stare male di di farvi abbassare l'autostima perché l'autostima parte da noi non permettete davvero a chiunque di abbassare la vostra sicurezza in voi di evitare che arriviate i vostri sogni perché se vi ascoltate ogni singola persona che ha ignorato queste cose che è arrivata magari al sogno che avete anche voi vi dirà la stessa cosa vi dirà ma sai quante persone mi hanno deriso criticato giudicato ma io ora sono qui e poi perché devi giudicare se se vengo giudicato deriso o derisa da una persona a questo punto a questo punto della mia vita so che faccio e provare tenerezza pena disgusto dipende dalla persona certo non perdo tempo a starci male non troppo dipende poi se toccano il tuo lato debole o meno ovvio e non non perdete tempo con queste persone a volte certi giudizi certe critiche non si possono evitare perché vengono da persone vicine a voi e che non potete evitare oppure sono nella vostra testa e lì davvero psicologo io io sono io io tutti i giudizi ce li ho direttamente alla mia testa non me ne frega niente di quello che dico gli altri perché tutto ciò che c'è da dire me lo dico nella mia testa andate proprio tranquilli e e appunto davvero quando una persona vi deride scegliete solo se provare pena o disgusto o tenerezza una delle tre e poi andate avanti cioè proprio pensate mi fa pena tenerezza o disgusto c'è proprio una persona che magari proprio vi critica apertamente e vanno davanti perché dietro un comportamento del genere c'è sempre un motivo e non non è un motivo benevolo quindi pensate che quella persona ve lo dice perché l'altro nasconde tanto altro sotto perché ricordate che una persona che sta bene con se stessa se stesso si vi 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 dirà solo del bello vi tratterà solo bene e io ammiro tanto queste persone le persone che io sto cercando di mettere quella persona le persone che fanno solo complimenti che che ti motivano che veramente sono tanto carine con te che che notano non so che ti fa star bene dicono oh ma hai fatto questa cosa bellissimo che bel vestito che hai come stai bene con questa conciatura che notano queste cose che hai fatto per star meglio ti fanno stare ancora meglio se non avete queste persone intorno a voi diventatela per prima questa persona e detto questo io spero davvero di avervi un minimo aiutato un minimo si come dire davvero motivato e sbloccato o almeno spronato a cercare aiuto se questa paura è particolarmente intrisa in voi perché un'altra cosa da accettare secondo me è che a volte abbiamo bisogno di un aiuto esterno non a volte non possiamo fare tutto da soli a volte è giusto anche prendersi del tempo e accettare certe cose che possiamo migliorare di noi e che ci serve fare un percorso in generale spero davvero di avervi fatto stare bene di avervi fatto stare bene e spero che questo messaggio ti sia arrivato nel momento giusto qualunque cosa tu voglia fare legale ovviamente insomma perché tutti meritiamo di essere felici tutti meritiamo di inseguire i nostri sogni se ce li abbiamo o tutti meritiamo di viverci la vita com'è cavolo ci pare e fondamentalmente frase trita e ritrita e ritrita e ritrita e ritrita e ritrita ritrita e ritrita ritrita e ritrita ritrita e ritrita ma solo noi sappiamo cosa vogliamo non facciamoci dire dagli altri cosa non vogliamo che ne sanno loro ma penso ciò che vuoi di te no ciò che voglio io e davvero spero davvero di essere stato un minimo utile perché 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 se posso usare la mia voce il mio pensiero il mio sì il mio buon intento per far star meglio qualcuno è è tutto per me è importantissimo a me sì piace rilassarvi sì piace sfogare la mia creatività sì a volte mi piace fare i video elaborati ma a me piace farvi stare bene piace trasmettere calma e rilassamento e leggerezza e e tutto ciò di positivo che io possa trasmettervi tutto ciò di positivo che sì posso darvi il mio piccolo 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 piccolissimo non c'è nulla che può ostacolarti da raggiungere i tuoi sogni nulla non c'è nessuno che può dirti cosa è meglio per te non c'è nessuno che ha il diritto di giudicarti e di farti cambiare idea non c'è nessuno che ha il diritto di dirti cosa devi fare tu meriti di raggiungere tutto ciò che vuoi raggiungere tu meriti di rendere i tuoi sogni realtà meriti di avere la vita che desideri meriti gioia meriti felicità meriti tranquillità meriti leggerezza meriti persone intorno a te che ti vogliono bene che te lo possono notare meriti di volere bene e meriti qualunque cosa tu desideri te la meriti non permettere non permettere mai nessuno di mettersi intralgiarti la via non permettere a te stesso e alle tue pare di intralgiarti percorso non permettere non permettere a nessuno di dire te quello che fai è stupido che quello che fai fa ridere non permettere a nessuno di dirti che non sei bravo in quella cosa e quindi non lo dovresti fare a te piace bene, basta vi faccio un altro esempio io ho iniziato cerchio tessuti e corda e non ho mai fatto danza non ho mai fatto ginnostica artistica non ho flessibilità ma sono probabilmente la più grande e la peggiore del corso io rito anche molto di me stessa se non riesco a fare una cosa se non sono coordinata pace lo faccio per me stessa lo faccio perché mi fa stare benissimo benissimo mi piace da matti non vedo l'ora di andare lì e se io sono brava o non brava non me ne frega assolutamente niente perché tanto lo faccio per me stessa devo rendere conto me stessa ho fatto anche una specie di saggio e farò il saggio le persone potranno pensare che faccio schifo rispetto agli altri che si esibiscono sì e probabilmente sì sono meno brava delle altre persone ma questo mi frena calvarlo no 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 avremo sempre un po' paura del giudizio degli altri ma non facciamoci mai 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 bloccare ok ho parlato tanto ho oblaterato tanto però ascolta questo video ogni volta che guardai ogni volta che sentirai che ogni volta che sentirai che il giudizio degli altri sta prendendo il sopravvento e ti sta bloccando ascolta questo video spero ti sentirai meglio e grazie grazie per quanto questo video fin qui se l'hai guardato e ora io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 che si è giunta l'ora di ne 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 abba usare le luci e augurarti augurarti augurare a te a te a te a te una buona buona buonanotte sogni d'oro good night sweet dreams let us know just dulce segno buon nuit buon nuit buon nuit buon nuit i miei pasticcinello yogurt un pazzonetto davvero forte un abbraccio che li spera la police buon nuit buon nuit buon nuit Grazie.